Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise In apertura vogliamo fare gli auguri a Daniele Filippone Che oggi festeggia il suo compleanno a Daniele Amico della mia famiglia e della redazione sportiva di Telemolise Ai genitori Maria e Lorenzo, alla sorella Federica Vanno davvero gli auguri più sinceri da parte mia E da parte di tutta la nostra redazione sportiva Calcio di Serie D C'è tempo fino a venerdì per perfezionare l'iscrizione online al prossimo campionato Superati 5.000 euro per la raccolta fondi dei tifosi del Campo Basso Questo è il dato aggiornato Un segnale di vicinanza in attesa di sviluppi positivi Per quanto riguarda l'iscrizione dei lupi in Serie D Tempo sino a venerdì per presentare la domanda Tifosi che stanno dimostrando vicinanza massima alla causa Ieri pomeriggio un gruppetto di supporters Ha di fatto provveduto a tagliare l'erba al Selvapiana Un piccolo grande segnale offerto nel periodo più difficile La struttura è assolutamente abbandonata al suo destino Come abbiamo potuto vedere qualche giorno fa Durante l'incontro organizzato dal Comitato Grazie a questo intervento il manto si presenta oggi In condizioni quantomeno decorose Il tempo stringe e filtra ad alcuni spifferi Un cauto ottimismo sull'iscrizione Il che presuppone un ingresso societario Considerate le varie questioni palesate nei giorni scorsi Certo dopo le vicende dello scorso anno Con la squadra iscritta nelle ultime 24 ore Può succedere davvero di tutto L'auspicio massimo è che possa esserci la continuità calcistica Con un programma serio Seppur teso a sistemare i conti societari Nella prossima stagione In Alto Molise Fissata la data dell'inizio della stagione Domenica 29 il ritrovo ad Agnone In serata il giorno seguente allo stadio Civitelle A partire dalle 9.30 inizierà il ritiro precampionato Che si svolgerà in sede fino al 18 agosto Saranno i primi passi dell'avventura Granata Al dodicesimo anno consecutivo in quarta serie Ancora poche news sul mercato Prevista comunque un'accelerata in questo periodo Per consegnare al tecnico Mecomonaco Buona parte dell'organico Entro la data del ritiro Sul settore giovanile Giovedì 12 al Civitelle Si svolgerà uno stage riservato Ai ragazzi nati nel 2001, 2002 e 2003 Si muove il calciomercato ad Isernia Siamo praticamente ai dettagli Per l'ingaggio del tecnico Massimo Silva Di fatto l'ex allenatore del Campobasso Ha già dato indicazioni Per l'allestimento della squadra L'ufficialità è prevista in settimana Con la possibile collaborazione Con il professor Filippo Argano Preparatore atletico E persona stimata nell'ambiente Sul fronte giocatori Ingaggiato il difensore classe 95 Antonio Arpino 35 presenze Quattro reti con la Sarnese Nell'ultimo torneo nel girone H Giovane con buona esperienza E voglia di confermarsi Tra i migliori centrali della D Possibile anche l'arrivo Dell'ex difensore dell'Agnonese E di proprietà del Campobasso Matteo Corbo Classe 98 E con tantissima esperienza nel campionato Sul fronte Juniores Diversi arrivi Natale, Bruno, Capocco, Cristiano, Palma e Rogi Quest'ultimo classe 2000 Terzino sinistro Vestiranno la casacca bianco celeste Nella prossima stagione Palla canestro Da lunedì a mercoledì Appuntamento con il basket Che conta al Palavazzieri Anche quest'anno La nazionale italiana Guidata da coach Andrea Capobianco Sarà in Molise Per un quadrangolare In campo Gli azzurri L'Inghilterra La Finlandia E l'Ucraina Calcio a 5 Domani Terzo appuntamento Con gli stage Della Chaminade La società del capoluogo Prosegue la fase di reclutamento Per allestire le formazioni giovanili Under 19 17 15 Appuntamento alle 16.30 Per lo stage Intanto a proposito Della prima squadra Il tecnico Paolo Pizzuto Allenatore confermato Per la stagione 2018-2019 Della Chaminade Paolo Si riparte per un'altra stagione Veramente molto Molto Impegnativa Per voi Per fare una battuta È un bel guaio Questo di ripartire Con me Allenatore Però Sì È un piacere Sicuramente Avere Quest'altra opportunità E È una nuova stagione Che è alle porte Ormai Perché siamo Siamo Praticamente Già Nel caldo E nel pieno dei movimenti Per capire Che squadra Costruire Cosa si può promettere ai tifosi Che comunque allesterete Una squadra competitiva Le ambizioni Della società Non sono Nascoste Sono Chiare Si lavorerà Appunto Perché Almeno sulla carta In partenza Tutti gli elementi Siano al posto giusto Poi Sempre Il campo Quello che dà il risponso Se le scelte Appunto Sono State fatte Nell'ottica giusta E Sarà poi Quindi Dal momento in cui Inizieremo A confrontarci Quello che Potremo avere Solo in quell'occasione Le prime Le prime Risposte Tu sei allenatore Della prima squadra Però comunque Un occhio Lo butterei Sempre Anche al settore Giovanile Anche il 19 Perché comunque La Chaminade Tiene molto I ragazzi Quelli che sono I risultati Della prima squadra Oppure L'impegno Della prima squadra Non possono Tralasciare Il lavoro Che va Improntato Affrontato Con i più giovani Perché sono Loro le risorse Più importanti Della nostra realtà Quindi C'è bisogno Di tecnici Qualificati Che avremo a disposizione Delle strutture Dei mezzi Per lavorare Al meglio E poi Cercheremo Anche Attraverso il lavoro L'esperienza E il confronto Di arrivare A fare un servizio Il migliore possibile Per tutte le categorie Intanto Con una nota stampa Apparsa Sulla pagina Facebook Della Saracena Calcio a 5 Terza squadra Molisana Ad avere diritto All'iscrizione Nella cadetteria Di Futsal La dirigenza Annunciato Che non si iscriverà A causa di difficoltà Economiche Il club di San Giuliano Di Puglia Probabilmente ripartirà Con un progetto nuovo La volontà è quella Di allestire Una società solida In grado In futuro Di vincere Il campionato regionale Garantire La presenza In serie B Tornei estivi Ieri serata Inaugurale Inaugurale Del torneo Di calcio a 5 Coste del Lago Limosano Cico team Contro 6 torri E terminata 6 a 2 A seguire BOAF Ha superato 14 a 4 Si può fare Questa sera in campo Alle 21 Piccole Vanità Gymnasium Contro BOAF A seguire Tricks & Trucks Contro Polisportiva Nastro Azzurro A proposito del torneo Di Limosano Uno degli organizzatori Valerio D'Addario Uno degli organizzatori Del quarto torneo Coste del Lago Di Limosano Si progredisce Anno dopo anno Certo Siamo alla quarta edizione Di questo torneo Ma questo torneo Ma questo torneo va avanti Da oltre 20 anni Quarta edizione Con noi Nuovi organizzatori Anno dopo anno Certo Cerchiamo di migliorare La qualità Sia per il pubblico Che per i giocatori Quest'anno Grazie alla collaborazione Anche con Il centro Gymnasium Ai tecnici Walter Brandogli Stefano Cammieri Alberto Silvestri Romolo Petrecca In diverse partite Su diversi giocatori Avremo anche L'uso dei GPS Quindi controlleremo Tutta una serie di valori E niente Per Questo per i giocatori Una novità Per i giocatori Mentre per il pubblico Abbiamo Come potete vedere A nostre spalle Il maxi schermo Con la grafica Dei risultati Tempo reale Del minuto Della partita E del punteggio E del punteggio Quindi siete davvero Attrezzatissimi Qui a Lemosano Devo dire che Si tratta Della prima serata Delle prime partite Ma già Il pubblico Sta rispondendo Alla grande Sarà un torneo Che si articolerà Praticamente In tre settimane Dunque Abbastanza lungo Sì Tre settimane di torneo Due settimane di girone L'ultima di quarti finali Semifinale e finali Sì Diciamo che In queste piccole realtà Come Lemosano Lo sport In questo caso Il calcio a 5 È rimasta Una delle poche attrazioni In cui Tanta gente Occorre numerosa A vedere Lo sport In questo caso Il calcio a 5 E niente Siamo felici Dei scorsi anni Come è andata E quest'anno Come già detto Cercheremo di migliorare La nostra offerta Lo fate sempre Con grandissimo entusiasmo Certo Certo Tu ho detto Da vent'anni Si fa questo torneo Però Non ce ne vogliano I precedenti organizzatori Però da quando L'avete preso voi In gestione È sempre un piacere Venire qui A Lemosano Ad assistere alle partite Certo Ringraziamo anche Il comune di Lemosano Che sono due anni Che ci ha dotato Di questo bello In questo fantastico Manto erboso E quindi In voi ancora di più Le squadre a venire L'unica cosa Quest'anno Siamo un po' delusi Dal numero di squadre Solo 10 squadre Ci aspettiamo qualcosa in più Però va bene così Ci divertiamo Noi che siamo qui Ultime gare Della fase Di qualificazione Per il torneo Madonna del Carmine Di Riccia Kiss Bar Ha vinto 4-1 Contro GSM Giovedì In campo Per la prima semifinale Pizzeria Darino Contro gruppo GSM Venerdì Liancaffè Circello Contro Kiss Bar Antonio Moffa Collaboratore Del torneo di calcio Madonna del Carmine Dunque Tutte le sere Presente A questa manifestazione Certo Le nostre tradizioni Rimangono In questa città E poi Non possiamo Fare a meno Di Non collaborare Con Donato Perché ce la mette tutta E anche quest'anno Stiamo andando Alla grande E Praticamente Ringraziamo anche Tutti Gli altri Sponsor Che ci aiutano A questa manifestazione Perché È l'unica Rimassa A Riccia A livello Di calcio Assolutamente Assolutamente Con la famiglia Tronca Che si prodiga Affinché Vada in porto Un'altra edizione Ricordiamo Che siamo arrivati Ben a 24 Eh sì La ventiquattresima Stiamo alla ventiquattresima Edizione Donato ha detto L'altro giorno Spero di arrivare Almeno a 25 È un grosso traguardo Arrivare a 25 Manifestazioni Di questo genere Specialmente Con i tempi Che corrono Che La gente Praticamente Non è che È molto disponibile A queste cose Però Noi Come ho detto Prima Ce la mettiamo Sempre tutta E ringraziamo A tutti I nostri collaboratori Assolutamente È verissimo Anche perché Poi arrivare Magari Quasi a un quarto Di secolo È un risultato Importante Perché proprio Come dicevi tu La continuità È una cosa Che spesso Non c'è Nella nostra regione Beh Tutte le altre Manifestazioni Massimo Che arrivano Qua a Riccio Sono arrivate A dieci anni Grazie a Donato Tronco A tutta la sua famiglia Come ha detto lei Prima Ne siamo Veramente contenti E penso Che tutta la cittadinanza Apprezza Questo grande lavoro Che fa Donato Tronco Insieme Anche a Tele Molise E a tutti noi Collaboratori Di questa manifestazione E ringraziamo Tutte le squadre Che partecipano A questa manifestazione Anche quest'anno Ringraziamo Circello Che non ci abbandona mai Ringraziamo Pietra Catella Che non ci abbandona mai E poi C'è sempre Qualche cosa Che praticamente Non va per il verso giusto Ma noi cerchiamo Sempre di aggiustare Le cose Per il calcio regionale Ieri è arrivata La firma di Devizia Con il vasto girato Il centrocampista Lo scorso anno Al Termoli Sarà a disposizione Di mister Farina E intanto il club È alla ricerca ancora Di un attaccante D'esperienza E deve completare Il pacchetto Under Con la possibilità Di schierare Un fuoricuota Tra i pali Per il pugilato Antonio Vitale Sotto i colori Del Cusso Molise Affermo Ha conquistato Un buon secondo posto Nel Lightbox Junior 75-85 kg Lasciando le marche Con il titolo Di vice campione D'Italia Antonio Vitale Tesserato Del Cusso Molise Reduce Dall'ottimo Argento Di fermo Nell'Open D'Italia Te lo aspettavi? Ma dopo pochi mesi Di allenamento Devo dire che Sono felice Del risultato Che abbiamo ottenuto Io e i miei compagni Di allenamento E ovviamente L'obiettivo È sempre quello Di andare avanti E ottenere titoli Anche maggiori Sei stato Un calciatore Poi hai deciso Di cambiare disciplina Come mai questo? No vabbè Cioè in realtà Giocavo a calcio Un po' per hobby Diciamo E il pugilato L'ho iniziato a fare Grazie ad un mio amico Per caso Diciamo Iniziato come un gioco E da lì Ho deciso Di iscrivermi A un nuovo palestra E da lì È partito tutto Partendo Diciamo Da quello che Hai ottenuto A fermo Guardando al futuro Quali possono essere I tuoi obiettivi? Ma l'obiettivo È quello Di continuare Ad allenarsi Magari ottenere Risultati Maggiori O comunque Continuare ad ottenere Risultati Ci sono Al Cus Tecnici Esperti Come Marco Astori E Francesco Pisapia Quanto Ti stanno insegnando E quanto Hanno influito Sui tuoi risultati Finora tenuti? Ma Sì Al Cus Ci sono questi Due ottimi Istruttori Di cui non si può Chiedere Di meglio E mi hanno insegnato Molto Appunto Grazie a loro Anche Se fino adesso Ho conquistato Questo titolo Motociclismo Un weekend All'insegna Delle due ruote I 170 Bikers Che hanno preso Parte al giro Turistico Organizzato Da Lady Biker Molise Nel weekend Si è svolta Una due giorni Motociclistica Organizzata Dal gruppo Lady Biker Molise Stand Enogastronomici Area Expo Musica Giochi E giro Enduro A cura di Fabio Denaro Che noi abbiamo avvicinato Forse veramente È un evento riuscito Per la prima volta Le donne Hanno avuto Un riscatto Possiamo dire Questo raduno Questo moto incontro È stato organizzato Completamente Dalle donne Da un gruppo Nato pochi mesi fa Che si chiama Lady Bikers Molise Abbiamo creato Questo evento Qui nella Pineta Invitando un po' di amici In giro Nelle località Fuori regione Devo dire Un ottimo successo Nonostante sia la prima volta Possiamo dire Veramente Siamo contenti Di questo evento Di questo primo evento Un ringraziamento particolare A chi ci ha dato una mano Agli sponsor Che sono stati Veramente Gradevoli Alla comunità Di Oratino Che ci ha permesso Di usufruire Di questa Bella Pineta Del sindaco Che ci ha dato Tutte le autorizzazioni Tutte le autorità E voi Di Telemonise Speriamo che l'anno prossimo Si possa ripetere Perché Ci teniamo E voglio Sprecare una parola In più Questo evento È stato anche Creato Con un'associazione Che Praticamente Si occupa Della violenza Contro le donne E questa è anche Una bella cosa Da sentire Perché oggi Se ne sentono Di tutti i colori Quindi insieme Alle moto Abbiamo unito La passione E il rispetto Per le donne Il gruppo femminile Ripeto È stato veramente Grande in questa manifestazione Dobbiamo dare un saluto Particolare A una delle organizzatrici Del gruppo Che purtroppo Ha avuto un incidente Pochi giorni prima Di essere presente Nella manifestazione Salutiamo Fulvia Tarasco Di Oratino Che è stato Il perno principale Di questa organizzazione E tutti i ragazzi Di Oratino Che hanno collaborato In tutto Ma veramente In tutto E vogliamo dire Grazie A tutti La scorsa settimana C'è stato Un bel live Presso il forno Pizzeria Marzitelli In via Sant'Antonio Abate A Campobasso Con Renata Marano E Domenico Di Giampietro Che hanno avuto Davvero Un grandissimo successo Noi li abbiamo Intervistati Allora E qui siamo Veramente in compagnia Di posso dire Di amici Perché Renata Marano E Domenico Di Giampietro Insomma Sono degli amici Insomma Da anni Sì Hanno partecipato Anche Come ho detto Anche nel nostro DG Alla serata Mille Di Domenica Sport Insomma Una bellissima esibizione Quindi Ogni tanto Ci ritroviamo La forma Renata Non cambia Sei sempre in forma Diciamo di sì Me la cavo Mi piace cantare Canto da una vita E la faccio con passione E niente Ci troviamo qui Io e Domenico Con la nostra band live E riproponiamo Un po' I cantanti Più Più Diciamo Conosciuti Conosciuti Sì Da Loredana Bertemia Martini Anna Oxa Pino Daniele Lucio Dalla E Francesco De Gregori Vero? Per anni Domenico Avete fatto Anche Avete lavorato Con l'MSC No? Crociere Quanti anni? Tanti? 18 17-18 anni Sì A un certo punto Avete detto Adesso scendiamo Ma Vuoi anche Per un Ecco sì Forse sì Per prenderci Un anno sabato Come si dice Per fare proprio Sti progetti Perché l'anno scorso Abbiamo fatto Una tournée Con Mina Battisti Che è andata Molto bene Quest'anno Ci stiamo riproponendo Come ha detto lei Con sei cantautori Diciamo Forse i migliori Nella nostra musica italiana De Gregori Dalla De Gregori E Lucio Dalla Anna Oxa Mia Martini E Loredana Bertè E Già abbiamo fatto Tre o quattro date Sembra che funzioni Molto bene Sicuramente Dopo stasera Dopo questa intervista Funzionerà Ancora meglio Ne siamo sicuri Perché noi facciamo Quando facciamo lo sponsor Insomma Siamo Forti fortuna A parte la fortuna Insomma Ci vede tantissima gente Quindi evidentemente C'è sempre un sacco di gente C'è sempre un sacco di gente Renata Che secondo me Sei una delle voci più Belle Che ho sentito Insomma qualche cosa Nonostante quello che dice Mimmo Che poi sfiderò pubblicamente Sulle conoscenze Dei gruppi anni 60 Ma in diretta Perché lo farò Soltanto in diretta Qualche piccola conoscenza Di musica ce l'ho Insomma Tu sei una cantante Non una cantante mancata Sei una professionista Voglio dire Perché io ti avrei visto Al festival di San Reimo Sinceramente Grazie Purtroppo Senza nessuna Perché non sono abituato A dire cose che non penso Grazie Sono stata sfortunata Però mi accontento Del mio piccolo Canto lo stesso Nella mia regione Poi ho girato il mondo Meno male Perché poi hai conosciuto lui Quando vedi me Ancora mi abbracci Sei rifamosa Probabilmente Dici ma questo chi è? Non si sarebbe mai verificato questo La famiglia Marsidelli Che cosa dire? Prima o poi Insomma Ci faremo una cantata insieme Posso osare Come no L'anno scorso Ha cantato con noi Se possiamo nominare Anche i nostri componenti Del gruppo Che pare doveroso Noi abbiamo Alla chitarre Giancarlo Di Biase Che è un campo bassano Doc Alla batteria Carmine D'Alena È un ragazzo di Frosolone Al basso Franco Manna Di Boiano Alle tastiere Domenico Iallonardi Che è di Monte Cirfone Quindi un po' tutto Il Molise ci sta Va bene Alle riprese Cioè il nostro operatore Marco Iannetta E io Che molto Indegnamenti Insomma Abbiamo realizzato Quest'intervista In bocca al lupo Crepi Grazie Bene È tutto Per questa edizione Del nostro TG Sport Buon pomeriggio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti